Non avevamo un miracolo, ma se facciamo tutto quanto giusto, pian pian in, tutti quanti saremo contenti. Il motto del pian pian in è quell'aria sempre pacata e sorridente, mancherà a tutti i tifosi dell'Unione. Di oggi la trista notizia della morte del presidente della Triestina Mario Biasin, pubblicata da alcuni siti di informazione australiani e poi confermata anche dal posto pubblicato dal club Melbourne Victory, di cui Biasin era il principale azionista. Il patron dell'Unione aveva 71 anni ed era manager nonché fondatore della Metricon Homes, un'impresa edile di grosso calibro in Australia. Dal 2016 si è preso carico delle sorti del club Rosso Labardato assieme al cugino Mauro Milanese, facendo risorgere una società che negli anni era stata bistrattata dalle gestioni precedenti. Con il suo apporto economico e strutturando meglio il club, anche i risultati hanno premiato la sua gestione, con la promozione in Serie C al suo primo anno di presidenza in virtù del ripescaggio dell'Unione, seconda in campionato alle spalle del mestre e vincitrice del play-off di Serie D. Abbiamo fatto una squadra e anche una società che va bene, sono sai sai contento e devo dire il lavoro che fa tutti quanti è sai importante. Da qui i campionati nella terza serie italiana e l'impressione che qualcosa di più era possibile ottenere. Di Biazin si è sempre apprezzata l'eleganza, l'educazione, la passione per le sue radici triestine, con quel suo modo di parlare in un dialetto triestino inglesizzato, simpatico da sentire per il connubio fra le sue origini giuliane e la sua vita australiana. E' stato lui l'uomo della rinascita della triestina, seppur deputando le scelte all'amministratore unico milanese, vero punto decisionale del club. Sotto questa gestione anche il rinnovamento dello Stadio Rocco, uno dei più apprezzati in Italia. E' tutti uniti, tutti uniti per l'Unione. Ti piace il stadio? Oh che bello, ma mi è che bello. Vedere come è tutto il stadio adesso, come ho detto prima, mi ricordo quando ero in Serie D, che è il primo anno, pensavo che era con i di qua fora. Uomo gentile, simpatico, disponibile e apprezzato da tutto l'ambiente. Alla famiglia Bisin vanno le più sentite condoglianze per questa triste perdita, che è per prima cosa umana, poi imprenditoriale e quindi anche sportiva. Ci sarà tempo nelle prossime ore anche per capire di più circa il futuro della triestina. Oggi però l'ultimo saluto lo rivolgiamo a Mario nel modo più semplice e a lui comprensibile. Ciao Mulo, te volemmo ben. Sono sai contento di vedere qua i tifosi. Grazie ai tifosi? No, non li senti, adesso guarda la partita, ma è sai bravi.